Bella supereroi, bentornati in un nuovissimo video di Roblox Allora, come sentite oggi è cambiato molto l'audio, si sente molto meglio E non dovete alzare a 102 il volume Allora, qua siamo su un parkour di Roblox Ho cambiato sia cuffie che tastiera Che mouse E anche il tappetino per il mouse Prima avevo una tastiera Avevo le cuffie Avevo il mouse Ma il mouse ora cambia colore idem con patate la tastiera E tutto in automatico Invece prima dovevi andare e regolare come volevi la tonalità Invece ora si sente benissimo l'audio Con queste nuove cuffie, molto belle Mi trovo comodissimo Lo comprate all'esse lunga di Segrate Sono veramente bellissime Cioè ti isoli dal mondo Bellissime, io le adoro Vabbè, parlando di noi Io mi sto trovando benissimo E intanto sto andando un botta avanti Questo è un parkour Molto veloce Intanto io non ci gioco da molto Ci gioco tipo da un giorno Oggi ho fatto un po' di partite come vedete E i soldi E molto bello questo gioco Sto provando praticamente tutto quello che ho comprato È bellissimo raga Mi trovo comodissimo Io adoro L'audio non lo dovete alzare a 100 Per sentirmi Invece ora lo dovete alzare a 8, a 9, non lo so Non so effettivamente come si sente l'audio L'audi, sì come no Non so come si sente l'audio Però secondo me si sente molto bene Perché ho fatto una prova prima E' veramente molto comodo Sì, 5 vittorie Vai, andiamo nel prossimo Ok ragazzi, questo è il prossimo round E vorrei fare un pochino di round Tipo 5, 6 Cavolo 5, 6 che io continuo a morire Non so se avete sentito Ma sono arrivati degli ospiti Sì, oggi ho ospiti a cena Perché è esattamente E oggi è il Si doveva festeggiare Una cosa Lo speciale 30 iscritti E infatti abbiamo chiamato un po' di gente A proposito ragazzi Per lo speciale 50 iscritti Se ci arriveremo Dai raga, iscrivetevi tutti Che facciamo lo speciale E sarà una cosa bellissima Allora Sarà un torneo Di stumble guys Bellissimo Bellissimo Stumble guys E in questi giorni In questi giorni non ci sto più giocando Perché ho avuto un po' di problemi con la scuola Sapete ragazzi Che rottura la scuola Veramente raga Potete immaginare Io Che vado in quarta elementare E veramente la odio Cioè raga in quarta la sto iniziando ad odiare Figuratevi in quinta Poi ragazzi non vorrei essere nei panni di quelli che vanno Tipo in Alle superiori Cioè veramente Se qualcuno va alle superiori Veramente Mi dispiace per lui Che già per me alle elementari sono state un inferno Cioè Sono state Sono ancora E raga Io mi devo svegliare Alle sei Che mi devo svegliare Che mi devo Che devo andare alle sette e mezza Che Rottura Veramente raga Io odio Le prof Le Le supplenti No le supplenti no Perché sono molto divertenti Io odio qualsiasi Qualsiasi persona che lavora la scuola Ovviamente sento offesa eh Però veramente Soprattutto alle prof Le odio Ragazzi comunque Ritornando a parlare con Delle cuffie Molto belle Molto Mi sto trovando comodi Infatti ora Ho il cappuccio nero Con una maschera Mi E voi mi sentite Ancora meglio Raga Raga Cinque win Dai Cinque win No sei Scusa Sei win Ok ragazzi E prossimo round Dai Dai partiamo Spediti Spediti Dai Dai Allora Vi ricordate la live? Bene La prossima live Che sarà Prossimo sabato Non dipenderà quando state vedendo il video Sarà prossimo sabato Alle ore Cinque E mezza Alle Sei e mezza Credo Non lo so Devo Mettermi d'accordo con Con i miei amici Per fare la live Un po' Di casino La potrei fare un venerdì Per carità La potrei fare un venerdì Chiamando i miei amici Tipo Leo A cui Vi ricordate Il bambino A cui ho fatto Il provino In live Che non l'ha superato Però Gliene farò Una Una parte Off camera Che Glielo ho già fatto Cavolo raga Ha fatto Più di Dieci kill Cioè Servono Otto kill No Sì Otto kill No scherzavo Sette kill Per entrare nel team Veramente raga Lui È Una cosa Incredibile Tanto io Ci sto È fighissimo Sto gioco Cioè Sto modalità Volevo dire Anche il gioco È bello Per carità No E questa è la cosa Che mi fa imbestialire Poi Ho la voce Un pochino bassa Perché In questi giorni Sono andato In un concerto Di un Cantante Si chiama Luigi Strangis Ho cantato Come un matto Ovviamente raga Mi si sono rotte Le corde vocali Però raga Gli ho lanciato Un bigliettino L'ha letto Bellissimo Gli ho dato Il mio nick Di Di youtube E raga Cercatelo pure voi Matt Trattino Basso super E iscrivetevi Al canale Cioè raga Cosa vi costa C'è un tasto Grosso Rosso Dove c'è scritto Iscrivici Cioè lo clicchi Non ti cambia niente Se vuoi lasciare pure like Lo lasci Se non vuoi Fa niente Allora Intanto ragazzi Io mi volevo Comprare una cosa Visto che sono uno Scioppone Sono veramente Uno scioppone E Mi volevo Comprare le doppie monete Intanto io Sto facendo una cosa Sono un mostro Cioè raga Adesso Non mi sto neanche Concentrando Raga Un minuto E sono all'ultimo Di solito Quando Ieri Ho detto che gioco Da un giorno Quindi Non dico frottole Praticamente Volevo Provare questo gioco No cavolo Raga Dai 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 Sì 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 Raga Raga Dai Dai Dite Dite Abushhv Sì Raga Raga Allora Prossimo round Devo prendere una roba Allora Allora Come avevo detto Voglio prendere le doppie monete Scioppato Dai Andiamo Siamo partiti un po' in ritardo Ma Fa niente L'importante Era Scioppare Quelle monete Che bello Che bello Scioppare Cioè ti da Una Cosa bellissima Mi direi che te lo da per una volta Se te lo da per una volta Lo disinstallo Giuro raga Se te lo da per una volta Lo disinstallo Roblox Vedrete solo video Di StumbleGuys Oppure di Brawl Stars Raga Dovrei continuare a portare Brawl Perché era molto bello E In In molti è piaciuto E Molto bello Quei due video di Brawl Stars La raga Facevo ancora i video Dove Dove Mio padre Li guardava Se mi guardava Farli E Invece ora Sono in camera da solo Chiuso con un cappuccio Una maschera E mi stupisce Che voi mi sentiate bene Intanto io sto facendo Provate Ragazzi Nel prossimo video Possiamo fare Un Draw My Life Un Un Write My Life No Uno Speaking My Life Dove spiego la mia vita Non Dove spiego E Nel mentre non gioco Raga Questo round E poi io direi Che il video Si può concludere Ah vero A proposito ragazzi Alla fine Ci sarà un ospite speciale Da salutarti Da salutare E Intanto raga Sto guadagnando Un botto di monete Cavolo Che brutto Il sotto Il sotto Sopra Si Stiamo Attenti qua Che Veramente Qua mi viene Un'ansia Raga Forse primo Forse primo Forse primo Dai Si Primo Vai Ragazzi Posso dire Che Questo video Può anche Concluderci qui E io vi auguro Una buona giornata E Scherzavo Ecco Il salutato di oggi E Ciao Carlotta Io saluto Carlotta Che ho lasciato like E sei iscritta All'ultimo video Ciao Woo